Partiti! Partita la 180esima edizione della Corsa dell'Arno, il Bibador all'esterno Lieberman, Flight to the Moon, si affaccia in prima posizione anche Furia Ceca, a contatto per linee interne Chichi Ritipo, Ispeciano, Basaltico Derviscio, Jack Aubrey, amante latino, e Leno. L'andatura non è molto sostenuta quella imposta dal leader, il Bibador, che gioco forza dove prendere il comando delle operazioni, all'esterno Lieberman, all'interno Chichi Ritipo, Flight to the Moon, Furia Ceca, Speciano, Basaltico, Derviscio, Jack Aubrey, amante latino, e Leno. Al completamento della prima piegata, Cavalli entrano sul rettilineo di fronte con il Bibador, sempre il leader, nei confronti della pariglia formata da Lieberman e Chichi Ritipo, poi Furia Ceca all'esterno, Flight to the Moon, per linea interna e Basaltico, poi Speciano, Derviscio, Jack Aubrey, amante latino, e Leno. L'andatura va un po' ad aumentare sotto la spinta esterna di Lieberman, che va ad accompagnare con maggior decisione, il Bibador, per linea interna e Galoppa, lungo lo steccato, Chichi Ritipo, si trascina per linea interna e Basaltico, poi Furia Ceca, Flight to the Moon, il grigio, a tiro, richiesto in questo momento. Poi i cavalli sono l'ultimo tratto del rettilineo di fronte, filta per linea interna e Chichi Ritipo, e va a succarare il Bibador, che cerca di reagire al suo esterno, poi Furia Ceca in terza posizione all'interno, coperto a largo da Lieberman, Basaltico all'attesa, poi Flight to the Moon, Jack Aubrey, Derviscio, amante latino all'argo, tutti chiusi da Steciano e Dell'Eno, i cavalli entrano in addirittura, intersezione delle piste, è passato in vantaggio, Chichi Ritipo all'esterno si presenta, Basaltico oltre al centro della pista c'è il Bibador, quando i cavalli sono ai 400 conclusivi, con in vantaggio Chichi Ritipo, Basaltico che prova al suo esterno, Giacobri in mezzo alla pista, Derviscio e Bibador ai 250 conclusivi, Basaltico va all'attacco di Chichi Ritipo che cerca di reagire al suo interno, c'è lo scatto di Basaltico che sta passando in vantaggio, Basaltico e Umbertino Rispoli hanno fatto bene i conti, Basaltico va a vincere la corsa dell'anno, Umbertino Rispoli su Chichi Ritipo, Derviscio, poi Lieberman, Giacobri, Amante Latino, Fly to the Moon, Elbibador, Feciano, Eleno e Furia Cieca, Umbertino Rispoli signori, si è rifatto della sconfitta del derby, è passato con decisione ai 300 conclusivi, ha demolito, demolito il fuggitivo Chichi Ritipo e ha frustra alzata, saluto al pubblico, bacio al cielo.